salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale la prova o meglio il test della nuova funzione introdotta da Fimi nel suo Fimi X8 SE 2022 sì perché qualche giorno fa Fimi ha aggiornato l'applicazione introducendo la possibilità di scattare foto a 48 megapixel andando a sfruttare appunto le potenzialità di questo nuovo sensore che è montato appunto nella versione 2022 che secondo me è ancora tanto da migliorare e da dare con gli aggiornamenti però era stata aggiornata solo l'applicazione oggi è arrivato l'aggiornamento firmware che ci dà la possibilità di scattare foto a 48 megapixel e poi un'altra novità introdotta da Fimi è anche la possibilità adesso di selezionare la velocità cinematica prima avevamo solo la modalità normal o sport che per lui ragazzi anche la normal è pazzesca perché c'è tantissima potenza questo drone c'era dei motori che spingono in maniera incredibile e dal punto di vista cinematografico tante volte diventa problematico fare riprese con lui in certe situazioni è vero che c'è la regolazione degli esponenziali infatti io li ho regolati per la mia sensibilità agli esponenziali ma avere una possibilità di velocità cinematica è sicuramente utile utile in generale ma con lui è ancora più utile appunto per il fatto che ha tantissima potenza quindi il test che andremo a fare oggi è scattare delle foto ovviamente le scatteremo sia nella modalità classica 12 megapixel che è quella che aveva già fino ad oggi e nella stessa identica posizione scatteremo le foto con la nuova modalità 48 megapixel la location nella mia solita location dove vengo a fare tutti i test faremo varie posizioni di foto le faremo anche contro luce le faremo anche con lo zoom che ci viene dato appunto nell'applicazione che è un 3x digitale ovviamente e vedremo anche la differenza scattare una foto col 3x nella modalità classica 12 megapixel rispetto alla nuova modalità 48 megapixel e quindi detto tutto questo direi di non perdere altro tempo e mettiamo in volo il film x8 se 2022 con ultimo aggiornamento firmware per le foto a 48 megapixel andiamo ed ecco qua film x8 se 2022 con ultimo aggiornamento firmware quindi adesso ragazzi iniziamo a scattare qualche foto allora io inizierei da questa area che è l'area dei cavalli quindi vado a interrompere il video cambio le impostazioni entro in modalità foto così a 12 megapixel scatto una foto cambio modalità 48 megapixel e vado a scattare una foto adesso provo a spostarmi mi giro vado a selezionare 12 megapixel e vado a scattare la foto cambio impostazioni 48 megapixel foto perfetto mi alzo di quota così siamo contro sole così è pienamente contro sole quindi 12 perfetto 48 megapixel quindi adesso siamo sopra al maneggio vado a selezionare 12 megapixel foto ok adesso impostazioni 48 megapixel foto ok abbiamo fatto la foto anche in questa posizione adesso mi alzo di quota e facciamo una foto stando molto in alto quindi siamo a 107 metri perfetto facciamo una foto da 117 metri di altezza abbassiamo la telecamera allora prendiamo come dettaglio la piscina quindi 12 megapixel e foto adesso 48 megapixel foto perfetto adesso possiamo provare a scattare le foto usando lo zoom e vedere la differenza tra uno zoom fatto con le foto a 12 megapixel o le foto fatte con la nuova modalità 48 megapixel quindi siamo in modalità 12 megapixel selezioniamo lo zoom massimo che è un 3x foto 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 ok adesso entriamo in modalità 48 megapixel e questa foto 48 megapixel utilizzando lo zoom 3x che ci viene dato in dotazione quindi direi che a questo punto possiamo ritornare da dove siamo partiti ok ragazzi allora avete visto le foto fatte nelle due modalità 12 megapixel che era la modalità che già c'era e la nuova modalità 48 megapixel questa nuova modalità foto con una qualità probabilmente migliore ma questo me lo dovrete dire voi qua sotto nei commenti come avete visto le due foto e quale secondo voi è ancora la miglior tipologia di foto se 12 megapixel o 48 megapixel anche per quanto riguarda lo zoom ditemi voi come avete visto la differenza nello zoomare un 12 megapixel rispetto al 48 e poi anche contro luce come avete visto le due tipologie di foto quindi ho cercato di darvi varie possibilità di scatti di foto appunto perché voglio che siate voi a dirmi cosa ne pensate riguardante appunto questa nuova modalità e durante anche questi scatti ho utilizzato anche la nuova modalità introdotta con l'aggiornamento precedente a questo però la possibilità di selezionare la velocità del drone che prima era solo normal o sport adesso abbiamo anche una modalità cinematica quindi il drone si muove in maniera più lenta appunto per fare riprese cinematografiche ed è una cosa molto utile soprattutto per questo drone perché lui ha tanta tanta potenza quindi modalità normal è davvero super performante è una modalità cinematica che lo rende più docile ci voleva proprio perché lui ha delle prestazioni pazzesche quindi detto tutto questo e dopo che avete visto tutte queste foto scattate con il film x8 se 2022 con l'ultimo aggiornamento se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatevi un grosso pollice su seguitemi su instagram ho portato tantissime novità anteprime voli in fpv stampe 3d quale di quello che vengo a fare in questa location o spoiler di quello che arriverà sul canale e sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi cupos conto riguardanti i droni da tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video ciao